Dove siete stati? Scusa, Splinter, avevano una pazza voglia di pizza e io ho detto siete pazzi. Spira! Sei un tubo di fogna! Frena la lingua! Vergogna, Mickey! Scusa, papo. Ehi, ragazzi, se non fossimo mostri rifiutati dalla società e potessimo fare quello che vogliamo... Voi che fareste? Andrei al liceo. Avrei una fidanzatina. Illuso. La polizia è sconvolta dall'ondata dei crimini commessi da Superfly. Nessuno l'ha visto in faccia. Perché? Perché chi l'ha fatto non può raccontarlo. Fico. No, non è fico. Un po' lo è. Sconfiggiamo Superfly e tutti ci accetteranno. Siete delle tartarughine ine ine. Esistono anche altri mutanti. Il mondo sarà dei mutanti. Non lo fermeremo. Proviamoci. Michelangelo, tu hai il cuore. Donatello, tu hai la saggezza. Raffaello, tu hai il coraggio. E Leonardo, l'onore. Insieme... Non c'è nulla che possa fermarvi. C'è una vacca!